Tramite voi è chiaro saluto tutti i cittadini, assicurando il mio massimo impegno per la città e per la provincia, cercando di in tutti i modi, grazie all'operato qualificato di donne, uomini della Polizia di Stato, ma devo dire di tutte le forze di Polizia, una sicurezza e una pace sociale che possa garantire tutti quanti di vivere serenamente. Si è presentato alla stampa e all'intera cittadinanza il nuovo questore di Arezzo, Dario Sallustio, che raccoglie così il testimone di Fabio Salvatore Cilona, arrivato in città ad inizio 2019. Per Dario Sallustio è la prima volta da questore, ma di esperienza alle spalle ne è già tanta. nato a Torino 55 anni fa e dirigente superiore della Polizia di Stato dal 1 gennaio 2019. È la mia prima esperienza di questore, quindi capite benissimo intanto l'emozione, questo vi trasmetto un sentimento personale e il grande orgoglio e anche la gioia di iniziare una città intanto così bella, perché mi ha dato subito un'ottima impressione, e poi una città che è importante, una provincia che è importante, quindi non posso che esserne soddisfatto. Alle spalle un passato particolarmente attivo negli anni, è passato infatti dall'attività volta al contrasto della criminalità organizzata a quella contro il sequestro di persona prima di essere nominato dirigente e guidare la Polizia Stradale di Ancona. Queste sono grandi occasioni, come le definisce il nostro direttore generale della pubblica sicurezza, il capo della polizia, di contaminazione, cioè di comprendere le varie anime della Polizia di Stato, che sono tutte anime estremamente importanti ed estremamente qualificanti, quindi non posso che ringraziare per questo arricchimento. E' ad Arezzo da meno di 24 ore, ma già con le idee ben chiare. Me lo descrivono come una provincia tranquilla, ma a prescindere da ciò che mi dicono, e di ciò che probabilmente è, secondo me è necessario ovunque, ecco da Sondrio a Palermo, tenere alta la guardia, sempre. In questo momento emergenziale, fondamentale, resta l'impegno di tutte le forze di polizia per evitare assembramenti e garantire così il corretto distanziamento interpersonale al fine di evitare ogni possibilità di contagio. Certo, oggi, anche dal punto di vista del contrasto alla diffusione del virus, prima c'era da controllare le autocertificazioni per gli spostamenti, e questo ha impegnato molto le forze di polizia. E oggi noi dobbiamo evitare gli assembramenti, perché ancora oggi deve essere tenuta alta l'attenzione sulla diffusione del virus. Insomma, fino a quando non saremo usciti, o spero al più presto, bisogna ancora essere attenti, evitare il più possibile gli assembramenti, le riunioni di più persone, insomma, ancora un po' di attenzione, poi sono sicuro, con un po' di ottimismo, che ritorneremo tutti alla vita normale.